nato artisticamente nella trasmissione Quelli della Notte, dove fu Renzo Arbore a volerlo come presenza fissa. Ferrini inizia subito a mostrare il suo modo eccentrico di fare comicità interpretando il ruolo di un rappresentante di pedalò di una fantomatica ditta la accese nautica, grazie alla trasmissione di Arbore, dove al suo fianco ha personaggi del calibro di Nino Frassica, Andy Luotto e Riccardo Pazzaglia. Ferrini si fa subito conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo. Lanciando il popolare Tormentone, non capisco, ma mi adeguo, la grande occasione per essere lanciato si presenta all'inizio degli anni 90, quando partecipa con grande successo all'edizione 89 novantesimi di Domenica in trasmissione nella quale si mostra un travestì con uno dei suoi personaggi più riusciti, la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media italiana.